E a proposito di sanità, oggi c'è stato un importante incontro al quale hanno preso parte il presidente della regione e gli assessori alla salute e al bilancio per fare il punto sulla situazione del comparto nelle marche che deve fare i conti con i pesanti tagli ai fondi imposti dal governo e anche trovare in fretta finanziamenti per procedere con gli investimenti. 80 milioni di euro in meno per la sanità marchigiana, questa la consistenza del taglio previsto nella proposta di riparto nazionale del Fondo Sanitario, una situazione che impone una nuova organizzazione dei servizi sociosanitari in grado di coniugare le minori risorse con il mantenimento del livello di assistenza che ha portato le marche nei primi posti in Italia per la migliore sanità. Le prospettive della sanità marchigiana sono state illustrate oggi nel corso di una conferenza stampa in cui è stato annunciato anche il piano degli investimenti 2011 che ammonta 220 milioni di euro, risorse che derivano da un cofinanziamento Stato-Regione e che sono destinate al nuovo IRCA, al Salesi e agli ospedali di Iesi e Fermo. Vista dunque la consistenza dei tagli, per attuare il piano di investimento diventa dunque necessaria l'alienazione degli immobili sanitari dismessi di proprietà regionale. Il Governatore dunque ha sottolineato la necessità che il Comune di Ancona proceda con la variante al piano regolatore per poi andare avanti con la vendita degli immobili dismessi che dovrebbe fruttare circa 50 milioni di euro. Al Comune di Ancona vogliamo chiedere pacatamente che questo processo che riguarda le varianti piano regolatore legate alla dismissione di alcuni asset, di alcune realtà sanitarie tipo l'ancisi che non c'è più, siano utilizzate per finanziare i progetti di investimento che abbiamo in corso, come eravamo d'accordo con un protocollo d'intesa firmato nel 2006 che ancora tende di essere onorato. Purtroppo noi dovremmo restituire le risorse finanziarie al Governo perché finanziamo questi investimenti se non riusciamo a sostenere i programmi e le risorse finanziarie. Tra le altre questioni sollevate, la necessità di ragionare in termini di aria vasta e non più con logiche strettamente comunali. C'è chi tende a conservare ciò che ha senza mettersi in discussione. Io credo che in tempi moderni questo sarebbe l'errore più grave che si possa commettere. Ecco perché noi porteremo avanti il nostro processo in sanità con grande determinazione. Noi stiamo programmando, abbiamo programmato nel piano di investimenti sia la nuova IRCA, quindi il network nazionale della terza età e con l'ospedale di rete di Osimo che è un'unica struttura, il nuovo Salesi, l'ospedale nuovo di Fermo. Quindi sono tutti progetti che sono in atto e che naturalmente addirittura per l'IRCA si conta di partire con i lavori entro l'anno.